Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove sono in una posizione strana perché sono sul divano. Allora, mi vedrete adesso per questo inizio anno con questa sciarpa perché allora io sto girando ancora nel 2019 quindi mi vedrete già avanti nel futuro poi, come è passato. Vabbè, comunque allora ho fatto un sondaggio per vedere quali video volevate vedere di più e il secondo classificato era, ce la posso dare? Il secondo classificato era i miei pronostici per il 2020 quindi parleremo di quello. Non vi auguro a tutti un buon inizio anno e ditemi poi sotto nei commenti quali sono i vostri buoni propositi dell'anno nuovo io vi parlerò un po' in generale. Allora, primo è una cosa più generica, quindi riguarda la mia vita in generale. Allora ho deciso prima di tutto che mi iscriverò in palestra, volevo già iscrivermi prima però mio padre ha detto che con le vacanze di Natale e quant'altro sarebbe stato stupido perché aveva preso giorni, soldi, eccetera, eccetera. Anche perché io ho un problema alla cervicale come alcuni sanno, altri non lo sanno, ve lo dico. Come potete vedere infatti io indosso due sciarpe perché spesso questa parte qua dietro della mia nuca fino alla parte della mia schia dove porto più o meno i registri, non le donne sanno più o meno dove si trova. Visti in fiamma mi causa abbastanza problemi. Quindi dovrei fare attività fisica, non mostruosa però dovrei farla. Quindi inizierò ad andare in palestra e ogni tanto anche in piscina. Ovviamente finché il tatuaggio mi guarirà perché appunto domani mi tatuo, perché domani è 30. Mi tatuo e mi faccio appunto due tatuaggi, uno me lo farò qua, vi devo togliere anche il braccialetto. Uno qua e uno qua sotto, quindi per un po' la piscina no perché mi hanno detto che appunto non è tanto per l'acqua ma perché ci sono i batteri dentro, quindi evitiamo infezioni al braccio e Sara. Quindi per un po' niente termine niente spa. Non che io ci vada spesso tutti i giorni, però alla piscina la evito. E infatti l'ho deciso se vado in inverno perché in estate l'avevo già fatto. Però era una cosa che volevo regalarmi da tanto tempo e quindi la mia decisione di tatuarmi è una decisione che non ho preso così perché volevo buttare i soldi al cesso, come tipo pensa mio padre. Però no, seriamente l'ho fatto perché per me è un valore. Poi vi spiegherò appunto il video di tatuaggio che è significato. Altra cosa è ovviamente cercarmi un lavoro perché ancora non ho notato nulla di serio. Molto probabilmente spero di poterlo trovare in cocomitanza con l'università. Cioè nel senso che tramite l'università voglio trovare qualcosina. E spero di trovarlo tipo part time così da poter riuscire anche ad andare più spesso a lezione perché io ho dato ovviamente un impegno part time da semifrequentante. Invece vorrei andare più spesso all'università. E se riuscirò voglio fare anche una cosa diciamo importante per l'università. Però questo è una cosa che tengo tra me e me perché devo vedere se ci riesco. Poi l'altra cosa, per parte l'università appunto che adesso sto svedendo un po', mi sono iscritta anche a scuola guida e insieme a Giorgio, la mia amica di diploma. Stiamo studiando un pochettino, adesso ci siamo un po' rallentate per via dalle feste, però a gennaio riprenderemo. E niente appunto io spero di poter riuscire a dare l'esame per febbraio. Adesso dovremmo dare l'esame di teoria. Anche perché io ho anche gli esami poi all'università, ma mi hanno detto comunque di fare gli esami meglio in una vera tassa fretta. perché quando a fine mi sono diplomata a 25 anni e se mi di laureo a 30, chi se ne frega, non so se sto a vedere adesso quello, perfisco fare degli esami bene, che fare di merda, per restare dietro la gente. Tra l'altro devo anche registrare il mio DSA, perché appunto devo un DSA. Quindi ci sono alcuni problemi che devo risolvere all'università. A gennaio ho tante cose da fare. Ponto, devo appunto lavorare sull'università e poi cercherò un lavoro. Mi devo iscrivere, ma in una parte, non dirò per scaravanzia dove, ma spero che mi assumano perché comunque come lavoro non mi dispiacerebbe. Non sono pretenziosa, nel senso che a parte la promoter, perché come lavoro ho deciso di scartarlo, perché voglio andare avanti, non voglio andare indietro. Cerco dei lavori sicuri, dove il mio posto di lavoro sia fisso, non dico fisso, ma che sia uno. In un lavoro mi è capitato che dovevo andare un giorno a Torbassano, un giorno a Rivalta, un giorno a Fanculo, e non mi trovo bene anche perché comunque non essendo appunto ancora motorizzata, la trovo molto scomoda come cosa. Quindi mi riesco magari anche lavorare a Canicatti, ma che sia quello il posto che ho sempre fisso. Anche quello che mio padre ha detto, sai di devo andare a Venere, a prendere. Magari hai problemi o cose, è meglio che tu abbia un unico posto dove lavori. e poi soprattutto che già io non andrò mai in pensione, devo avere comunque un minimo, dico di contributi, un'esperienza decente. Non perché sono pretenziota, ma nel senso che mi va bene anche fatto a fare la commessa, di fare la saggista. Per Eola, per Motter, trovo che non sia un lavoro, un vero lavoro. Poi ci sono persone che per carità ci vivono, ho un grandissimo di loro che fanno questo lavoro, perché l'ho fatto e non... Però non trovo giusto che... Nell'anno in cui siamo... Il 2020. Esistono ancora questi lavori. Cioè dovrebbero essere dei lavori più... Siccome più stabili. Invece noi giovani purtroppo, meno chi ha fortuna, trovo dei lavori stabili. Ogni tre medici siamo mezzo alla strada, praticamente noi. Sì, va bene, sei. E niente, poi queste cose sono quelle che voglio cambiare, altre cose poi ve le porterò più avanti. Se riesco mi farò anche le punte Viola. NdH avevo, però quello poi lo vedo più tardi, più avanti. Dovrò fare delle viste mediche, vabbè, quello sono da vita. E poi sto seguendo una dieta. Sì, purtroppo sì. E la seguirò poi anche a gennaio, perché appunto io non è che sono grassa o in sovrappeso, cioè non è che sono magra. Però appunto, dopo un intervento che ho fatto di bypass gastrico, vorrei ricominciare appunto la paese a più vado per tonificarmi, stare bene in salute, perché una cosa che a me non è data gratis è proprio la salute. Molto spesso appunto male la schiena, vado di qua, e quindi penso che facendo attività sportiva mi aiuti un po'. Infatti una persona che sto seguendo tanto su YouTube è che vi consiglio di valeriti fitness, che molti hanno criticato dicendo che non è veramente fitness, io penso che non... Una persona per essere fitness non ci bisogna che sia ammazzi, o che sappia fare 400.000 pressioni, ma quello che trasmette la gente. Persone che magari non sono pigre, magari persone che non riescono a fare le cose, gli dia la forza di comunque iniziare a fare uno sport, iniziare magari a fare attività fisica, insomma è questo. La capacità che ha un bravo YouTuber, un bravo influencer, o qualsiasi persona che abbia un canale YouTube. Di mettere a smettere qualcosa alla gente. A me lei comunque piace tantissimo. Mi ve la consiglio, andate poi a cercarla, comunque abbastanza conosciuta. E l'ex fidanzata è di Foice, perché magari lo segue. Io l'ho scoperta appunto tramite lui, perché seguivo appunto lui che faceva i video dove mangiava fino a sfondersi. E lei mi piace veramente tanto, la sua storia, il modo comunque che fa le sfide. Tutti i video che fa mi piacciono veramente tanto, mi prende appunto perché appunto, io seguo anche molte donne su YouTube, mi piace l'interpretenza che hanno. Un'altra cosa che invece smettero, che ho smesso di fare da un bel pezzo, è... Mi piace seguire la Sabri Gamer. Non dirò il motivo preciso, diciamo solo che... ho smesso di seguirla perché... Divergenza di pensieri e altre cose. Mettevola così qua. Perché non voglio alzare un polverone, non voglio fare... Non voglio... Diciamo che non la vedo più nella stessa maniera che la vedevo prima. E devo averla difesa per tanto tempo sui social. Mi sono ricreduta su come veramente... Perché può essere comunque una bravissima persona e tutto. Però non mi sento più di seguirla tutto qua. Seguro adesso anima con tanta gioia e speranza. Perché mi piace, mi fa ridere, poi si ha i capelli fantastici viola, cioè... Evo un personaggio che comunque mi fa ridere. Ho ripreso a seguire RoxyRoxTV, che è fantastica anche lei come ragazza. E ho iniziato a seguire anche nuovi youtuber. Ho un nuovo canale ASMR che vi invito ad iscrivervi. Andate sulla parte della mia community, che vedrete che ho anche lì condito di video. Se no, ci sono tutti i canali consigliati. C'è il mio ragazzo, che si chiama Blengame. È un gioco anche di parole. E poi mi chiamo Sara ASMR. Ho aperto questo canale ASMR perché adoro gli ASMR. Io ho un problema anche di insonnia. Tanto perché non ho tanti problemi mentali. Ho un problema di insonnia, ho scoperto che gli ASMR mi aiutano tantissimo. E tra l'altro mi seguo una ragazza fantastica, si chiama Chiara ASMR. E ho anche la gemmella Betta. Chiara ASMR è molto conosciuta. La gemmella Betta invece è una mia amica che è conosciuta nel mondo di YouTube o tra i punti di ASMR. E sono fantastiche. Cioè Chiara è proprio una cosa... È una delle poche ragazze che sono proprio delle... È proprio un'artista. Io mi addormento con i suoi video. È fantastica. Altre ragazze sto scoprendo man mano con questo mio canale ASMR. E devo dire che si può fare tutto gli ASMR. E fare gli ASMR ti tranquillizza. Ti fa anche un po' nervosire quando i cani non vogliono collaborare con dei cabaiano. Però è un'arte. Penso che sia un'arte. Io adoro tutto ciò che ha a che fare con l'arte. Quindi io ho aperto questo canale. E vi invito ad iscrivervi ovviamente solo se avate gli ASMR. Perché non... Voglio che sia un canale diverso da questo. Voglio che le persone che ci facciano parte. Se volete sostenermi e tutto mi va benissimo. Però voglio che le persone che ci facciano parte amino gli ASMR. Che si guardino i video, che interagiscono con me. Ho più persone che guardano i video che persone realmente iscritte al mio canale. E questo a me mi fa piacere. Perché alla fine ho una sessantina di iscritti che sono alla fine pochissime persone. Ma ho più visual lì che qua tra un po'. Qua lo uso come sfogo perché mi piace comunque parlare tutto. E a proposito appunto di canali... Già posso far alzarmi? Sì. Ok. Questo canale rimarrà a sapere il mio principale. Nel senso che parlerò delle mie novità. Sull'università, tutto. Gli altri video invece che prima facevo qua di ASMR ovviamente non ci saranno più. Se riuscirò li toglierò pure. Non saranno più in elenco. Perché ovviamente il canale verrà spostato di là. Quindi se volete vedere video ASMR video dove magari faccio anche degli acquisti particolari sono anche di là. Perché farò dei video acquisti in ASMR là. Anche adesso mi sto facendo fare anche il roleplay fare il whispering, il no talking tantissime cose insomma. Devo ovviamente ancora un pochettino prenderci la mano. Qua continuerò a fare i miei video non farò mai più le sponsorizzazioni. Lascerò in vigore quelle che ci sono già per vincerle perché ovviamente ormai sono in corso. Anche è stata intorno a che hanno avuto molto successo perché appunto ho avuto un po' un calo quindi voglio rivoluzionare un po' il canale. Diciamo che allora farò il video che mi sento di fare nel senso quelli che mi piacciono di più quindi non farò troppo spesso e appunto video sponsorizzazioni farò mai più. Se qualcuno vuole un video sponsorizzazione d'ora in poi lo dirò poi anche in un video apposta e lo può chiedere. Nel senso che ci saranno appunto delle persone che adesso vogliamo collaborare vogliamo fare delle sponsorizzazioni faremo insieme. Ovvero io sponsorizzo e te tu sponsorizzi ma perché è una persona me l'ha chiesta tipo che ha 5.000 iscritti io ne ho 1.300 quindi non mi sembra una cosa sensata a chiedere una persona che ha meno iscritti di te di sponsorizzazione. Però ok da se è una persona che fa piacere a me fa piacere però sono stanca di gestire tipo il contest del disegno e poi la gente se ne dimentica gestire il contest poi non parteci più a nessuno tutti mi chiedono che vogliono sponsorizzazioni ma poi si scocciano di seguire tre regole quindi sinceramente le sponsorizzazioni le toglierò. Se qualcuno lo vorrà ci metteremo d'accordo sui social non do il mio numero di cellulare l'ho già detto 50.000 volte e non me lo chiedete più perché è privato ce l'hanno poche persone che mi fido e basta. e non me lo chiedete più